Il film che aveva un budget molto grande è molto limitato e quindi specialmente a Los Angeles dove sono abituati a girare molti film non è semplice girare con dei budget piccoli e di conseguenza abbiamo avuto un po' meno di 4 settimane per realizzare il film, cioè 18 giorni e riuscire a girare un film con tanti protagonisti e con tante storie diverse e tante location diverse non è stato sempre semplice. Ellie Walker è una donna molto forte che ha un'idea molto precisa di quello che vuole e questo è sempre un bene per un direttore della fotografia perché avere qualcuno da seguire specialmente che ha un'idea emotiva del film molto precisa facilita molto il lavoro come direttore della fotografia. Ellie è una donna che ha molta esperienza essendo stata un'attrice per oltre 30 anni, lavorando tantissimo, una scrittrice di grandissimo talento e sul set si è dimostrata una regista molto talentuosa e con idee molto precise. la parte più forte del film è probabilmente la sceneggiatura e quindi credo sia un premio, il premio giusto per questo film ma anche proprio per come il film si sviluppa nella parte comica e nella parte drammatica che lo rende molto reale perché anche tutti noi abbiamo vissuto momenti molto tristi nella nostra vita però questo non toglie che ci sono anche delle risate durante questi momenti tristi e questo il film lo esprime molto bene. Sono onorato di essere qui e sono onorato di rappresentare Ellie Walker e userei proprio la sua, quello che lei mi ha pregato di dire nel ritirare il premio che questo festival rappresenta la vera indipendenza e creatività nel cinema perché va a scovare dei film che altrimenti spesso non avrebbero una grande visibilità. Grazie a tutti.